Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Allora, siamo arrivati a 200 iscritti, quindi... Give away! Ebbene sì, allora, siamo arrivati a 200 iscritti, in realtà, in una maniera molto più veloce di quello che pensavo, perché io pensavo di non far partire questo giveaway prima della fine dell'estate, perché pensavo di non arrivare al traguardo che mi ero prefissata, e invece siete stati grandiosi e siamo arrivati a 200. Io vi ringrazio tutti tantissimo, perché appunto stiamo crescendo insieme e non posso fare altro che ringraziarvi. Quindi, bando alle ciance e facciamo partire questo giveaway tanto aspettato. Allora, facciamo prima una piccola premessa sulle regole. Allora, innanzitutto dovete essere maggiorenni e residenti in Italia, quindi se non siete maggiorenni e non siete residenti in Italia, purtroppo non potrete partecipare, perché appunto è così. E quindi è così. Dopo, vabbè, queste cose un po' legali, per fare tutto con regolarità. Allora, per partecipare al giveaway, insomma, ho messo, veramente, ho deciso di fare pochissime regole. Allora, per partecipare bisogna essere iscritti al mio canale e avere ovviamente la lista delle iscrizioni pubbliche in modo che io possa vedere che voi siete iscritti al mio canale, se no io come faccio a saperlo? Condividere il video sul vostro profilo Facebook in modalità pubblica, perché anche quello, se ovviamente non sono amica di tutti, se non è in modalità pubblica, io non posso vedere che avete condiviso il video, quindi, ok? E ovviamente lasciare un commento solo sotto questo video per farmi sapere che partecipate. Io assegnerò un numero a tutti i partecipanti, quindi vi assegnerò un numero, e il 18 di agosto il giveaway verrà chiuso, io il 18, quindi si chiude il 17 a mezzanotte, il 18 provvederò a fare l'estrazione e quindi tramite il sito random.org farò l'estrazione del numero fortunato che vincerà i premi, che ve vengo a farvi vedere subito. Quindi, pochissime regole, mi sembrano anche molto molto facili, quindi spero che non troviate niente di complicato. E niente, allora, basta, basta parlare, facciamo subito vedere questi premi. Allora, non vi aspettate insomma grandi cose, anche perché giveaway. E come primo giveaway ho pensato alle vostre unghie. Vero Mario? C'è sempre Mario qua. Allora, ho pensato appunto alle vostre unghie e alla vostra manicure e alla cura delle unghie. Io ci tengo particolarmente, anche se in realtà non ho mai fatto un video di questo tipo, però ci tengo particolarmente. Allora, ho deciso di regalarvi questo kit per unghie per fare la manicure. Adesso vado subito a leggervi. Allora, è una di Deborah, c'è la base levigante e il rimuovi cuticole idratante. Quindi questa è la base e questo è il rimuovi cuticole. E il kit è un kit per unghie striate squamate. Dietro ci sono tutte le spiegazioni, così anche per voi è un po' più facile insomma da capire. Ovviamente chiuso, sigillato. E questo è per fare la manicure. Ovviamente ho preso anche questi, perché se lo fate, fate la pedicure invece che la manicure, questi vi servono. e quindi vi ho preso anche i... Non so come si chiamano. Vediamo come li chiamano qua. Non li chiamano. Ah, separatore unghie per i piedi. Separatore per unghie. Quindi vi li ho presi di questo giallo fluo. Questa è una cosa, vabbè. Dopodiché vi ho preso questa. Questa è la chicca che non l'ho preso per me, non ho capito perché, ma l'ho preso per voi. Questo è di Rimmel, è il Super Gel. È un kit anche questo. L'ho preso di questo colore molto neutro, perché appunto non sapendo a chi arriverà il regalo, non so appunto i gusti della persona che riceverà questo regalo, e sono andata molto sul neutro. Allora, vi leggo subito cos'è. È l'innovazione dello smalto in gel. Colore puro dal finish ultra brillante effetto gel. Allora, c'è scritto che dura fino a 14 giorni. Mario mi muove tutto. E ha l'asciugatura classica, quindi anche se c'è scritto Super Gel, non si asciuga nella lampada, ma si asciuga come gli smalti normali. Bisogna dare una o due passate di colore, e dopodiché applicare il gel top coat, in modo da ottenere fino a 14 giorni di colore brillantezza effetto gel. Ovviamente, chi riceverà questo regalo mi deve far sapere se funziona, perché io non l'ho ancora mai provato. Però, siccome l'ho visto lì, e mi piaceva tantissimo questa cosa del fatto che io lo metto e mi sta su due settimane, allora ho deciso di prenderlo per voi e di usarvi come cavie. Però poi mi dovete far sapere com'è. Quindi, effetto gel, non so niente di dirvi, non c'è scritto un colore, non lo so, però... Ah, 012. È il colore 012 Soul Session. C'è scritto. E questo è il... È salvo. È lo smalto. Poi ho deciso di mettervi dentro l'ultima cosa che mi è rimasta dalle provette, dall'ordine che ho fatto dai Vest Rocher. mi è rimasto solo questo siero e ho deciso di mettervelo dentro, così lo potete provare, provare anche voi qualcosa di Vest Rocher, se non l'avete mai provato. Mi è rimasto solo questo di provetta, perché il resto ho provato io tutto. e tra l'altro vi devo ancora fare le recensioni, ma va bene. Altra cosa che ovviamente non può mancare in questo giveaway è una cosa che vi avevo già fatto vedere nei video precedenti, in un video precedente che vi lascio qui sopra, e sono ovviamente il doposole della bottega verde, della nuova linea bottega verde, e sapete che mi hanno mandato tantissimi tester del doposole, che è questo qui, quindi ve ne metto... mi piaceva il numero 6 oggi, e quindi... vi metto dentro 2, 4, 6 doposole, 6 tester doposole, così magari lo potete tenere per voi, alcuni regalarli a vostra volta a qualche amica, amico, non lo so. Comunque questo è il trattamento doposole della nuova linea bottega verde, che vi ho già detto che vi lascio nell'info, e... ve ne metto dentro 6, così potete provarlo. Ovviamente, piacendomi il numero 6, non gioco a carte, eh, vi metto dentro 6 buoni sconto, che vi dico, vi ripeto, che allora sono... è uno sconto del 40% su tutto l'assortimento di negozio, usufruibile in tutti i negozi di bottega verde, fino al 31 del 12, sì, fino al 31 dicembre 2016, quindi avete anche il tempo di comprare, insomma, anche le cose per Natale, per i regali, insomma. ve ne metto dentro 6, così, se volete usarlo uno adesso, uno dopo, appunto, per Natale, eh, potete regalargli anche questi, perché non sono nominativi, potete, può usarli, potete usarli, potete regalarli, potete farne quello che volete, e basta, questo è tutto. io spero che il premio totale, il premio finale, il premio vi piaccia, fatemi sapere, insomma, cosa ne pensate del premio, io intanto vi invito a condividere, partecipare al giveaway, io vi aspetto in tantissimi, e, niente, noi ci vediamo per, nei prossimi video, e poi, intanto, comunque ci vediamo all'estrazione, che ci sarà, appunto, il 18, ma ve lo scrivo qua sotto, data di, come si chiama, chiusura, quindi, comunque scriverò chiuso nel titolo, e, eh, ci vediamo il 18 per l'estrazione, io intanto, vi mando un bacio, e vi saluto tutti, ciao!